Musica Ciao a tutti ragazzi noi siamo i Consingames Qui Kikko e Kekko Ed oggi siamo qui su Di ArenaCraft Insieme a un ospite Come dice Kekko speziale Siamo con Con io Anima ok e chi è il primo Scappa Eh minchia oh proprio a me dove la dare Non è una contenta Dalla dalla Capo bianco Madonna come l'hai Oh dai Ma perché Ma perché Kikki di sconnetto Vaffanculo Eh lagga come al c***o Quando vado a gioco io di nuovo andiamo su Turbulence Perché vai da dietro No No si va da dietro Io vinco da dietro Sì 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 venite al primo Va da Alaskan Va da Alaskan Di survival games di Glaceous Craft Ma passi per un show No secondo me è quelle trappole No 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 stanno No vedi che c'è il bottone Eh però io lo andrei in una trappola Ma stai zì No 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 Inchia Per 200 armatura e poi le tana Per uscola Non è bella Modiglopvesc gauche E사 Guadag Ranmi Caes Ettore Musconi Ci c'è Certo Colasso Tuo la mazzati La mazzati La mazzati s stai aspettando la partita via vieni vieni no dove cazzo e non ma cagate proprio no mamma va sempre non ti cagano entra dentro nell'acqua niente no aspetta cosa c'è segreto questa la trappola mara otto appiccino aiutano la vera scappolo è deficiente no un buco giudizio sono le ragnatele n sto con lì c'è stato con spade ciò che lo stic il cartone di usare per la storia mandato 15 volum si sorti con la coppia morto no ma che cazzo però anche a te anche tu ok ma non torna anche ogni caso turbalence nick amato io vado dalla pari 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 racconto posto tv no ma che controlla e le metto entra nell'acqua eh la vedi l'ho trovata beh non ce l'ho bisogno oh che arco mi sa non è negato eppure io l'ho trovata una cesta cibo c'ho anche si aspetta c'è anche un arco e le frecce non c'è niente non la prende perché aspetta eh si saliamo sopra saliamo sopra ma sta con un lingotto d'oro però no infatti non l'ho preso che si ti fai una palla di d'oro dove sta? ah si ti vedo ti vedo bugia non ti vedo dove sta? oh incominciano a trattando 5 secondi ah la rena ah è vero un'altra rena vai quel pantalon c'è da frocio giallo non ti vede non sono omofobo che cosa? perché la vengono a mettere qua i ciasi eh si eh si eh aspetta che fermo visto basta se vuole freccare le altre cose vai eh si però ti devi togliere secondo me la devi chiudere ah no ok la tunica la tunica la tunica la tunica ah ce l'ho non ce l'ho scommettiamo vuoi vedere che non ce l'ho ma di tra l'albero c'è una cesta oh entriamo qua dentro di tra l'albero c'è una cesta in questa arena oh è acqua è acqua la cesta ah è quella che abbiamo eh no da dove siamo passati già non non penso oh ma questo non è Nick questo ti ammazzo c'è la spada in piedi son morto oh chi l'ha detto non si si è son morto attenzione a uno che c'è tu ti vendi con la spada in legno ahahahah cavolo all'arco vedi come morì Nicolò quanti morì hai Nick? è morto ahahah ahahah oh ma perché no? no si per no le ho preso le ho preso era me ciao le ho preso ciao dove cazzo stai? vieni vieni segui me segui me eh entra dentro entra dentro ma vedi c'è una spada in legno tutta carta non può me si la puoi craftare la puoi craftare io la so craftare io la so craftare io lo preso da un ti ricordi io ho ucciso una con la spada in piedi ma ti perché non mi piace? collage ma perché la rimetti? io combatto collage e dobbiamo andare sei in un posto migliore dove stanno delle ottime armi secondo me le fogne no ma non è non vuoi più uscire con l'arco c'è l'arco ma dove ci stanno ci stiamo nascondendo a te quindi ragazzi se il video vi piace vi faccio tutto vi faccio un commento mi piace se il video vi piace vi faccio tutto vi faccio un commento mi piace quindi ragazzi se il video vi piace vi faccio tutto ma da fagasa tutti a Grazie a tutti.